Si sta parlando molto in questi giorni di aumenti stipendiali per i docenti, per il personale della scuola e una cifra che sta circolando è quella di 14 euro mensili di aumento per tutti. Ma di che cosa si tratta? Questi 14 euro in realtà non sono un vero e proprio aumento ma sono la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale, o cioè quella somma che viene erogata a tutti i dipendenti pubblici in attesa che venga siglato il nuovo contratto. Normalmente questa cifra viene erogata a partire dal terzo mese dopo la scadenza contrattuale, quindi in questo caso a partire dall'aprile del 2019. In effetti se si va a vedere l'articolo 34 della bozza della legge di bilancio che è in discussione in Parlamento si scopre che per l'appunto a questa voce sono destinati esattamente 545 milioni, più o meno la metà di quanto è previsto dalla legge di bilancio per il 2019. L'altra metà invece verrà utilizzata per coprire il cosiddetto elemento perequativo, cioè quella parte di stipendio che serve a equiparare gli stipendi più bassi a quelli medi. Quindi in realtà per il momento parlare di aumento di stipendio mi pare un po' troppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.